Berzo! Molly! Bertolli! Guarda, questo è il versatore salvagocce Bertolli ed è così pratico, così sicuro! E questo è l'olio di oliva che preferisco, così buono, così saporito! Olio d'oliva Bertolli, un'alta qualità garantita da una secolare tradizione. Sulla tavola tutti i giorni un buon vino di qualità, il Castellino!